signori buonasera salom grazie a tutti di esservi collegati un benvenuto particolare a chi si collega in diretta per la prima volta con l'augurio che si trovi a suo agio nel nostro gruppo e riprendiamo il nostro studio del 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 profeta ovadiah che fra i dodici profeti minori siamo già al terzo incontro su questo argomento ve lo ricordate tra i dodici profeti minori è il più breve di tutti perché consiste soltanto in un capitolo di 21 versetti è un testo molto pregnante l'abbiamo già visto ce ne siamo già accordi e ci ripromettiamo di continuare oggi il nostro studio non prima di aver rivolto come siamo abituati ormai da alcuni mesi a fare non prima di aver rivolto il nostro pensiero e la nostra attenzione alla difficile situazione in ered israel che si ripercuote ormai su tutto quanto il mondo ebraico e quindi dobbiamo essere tutti quanti uniti nella preghiera cadosh baruchu che ci aiuti a superare questa incresciosa situazione in particolare in ered israel ma anche fuori per quanto ci riguarda e recitiamo come al solito in apertura le parole del salmo 121 per chiedere a cadosh baruchu questo aiuto 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 chiedere ad ora il signore ci custodirà quando esci e quando entri da ora e per sempre preghiamo per il ritorno repentino degli ostaggi in salute alle loro famiglie all'affetto dei loro cari alle loro case preghiamo perché i soldati possano presto a loro volta rientrare a casa dalle difficili operazioni nelle quali sono coinvolte e preghiamo anche per l'anima di chi non ce l'ha fatta che possa trovare giusto e meritato riposo in cielo il profeta ovadiah da qui riprendiamo il nostro discorso quando izzac ebbe dato la berachà del primo genito a yaakov in seguito al famoso sotterfugio fu perorato da esaù il quale naturalmente si trovò ingannato per la seconda volta esaù chiese a suo padre di dargli a sua volta una berachà e questa berachà data a esaù non era più la berachà spirituale di yaakov ma era qualcosa di diverso e alhar bechati chie suo padre gli dice vivrai della tua spada ed in effetti quest'unica profezia di ovadiah che abbiamo cominciato a conoscere le scorse volte è una profezia di guerra l'abbiamo visto il profeta si rivolge a tutti i popoli e rivolge loro un appello per prepararsi alla guerra contro edom edom è il discendente di di esaù ci siamo fermati la scorsa settimana ad un versetto nel quale viene viene descritta la situazione di edom a fonte di questa guerra noi non sappiamo di quale episodio della storia antica si tratti esattamente non conosciamo tutte le vicende del popolo di edom in senso stretto cioè di quella popolazione di cugini o di fratelli che vivevano nell'attuale transgiordania o giordania che dir si voglia siamo arrivati al verso 7 siamo a pagina 370 del volume del pentatevico delle aftarot perché il brano che stiamo analizzando è a sua volta la aftara della parasha di Vaishlach e in questa traduzione col testo a fonte naturalmente lo affrontiamo che cosa succede? nei versetti precedenti si parla di una situazione di una di un depredamento di edom in questa situazione bellica nella quale si trova e i suoi nascondigli vengono scoperti vengono portati allo scoperto dice il versetto che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa settimana Nella traduzione italiana che qui ci viene data tutti quelli che erano legati da patto con te ti hanno costretto ad andare fino al confine tutti i tuoi alleati ti hanno sedotto e ti hanno vinto i tuoi commensali hanno portato il malanno dove tu ti trovavi egli è sprovvisto di consiglio Yehezkel Kaufman nelle sue Toledota e Munai Israelite nella sua monumentale storia della fede ebraica dice che in questi primi versetti del profeta Oradiah che sono ripresi quasi letteralmente in una profezia del profeta Jeremia al capitolo 49 troviamo un canto di derisione nei confronti di Edom come dicevo non sappiamo esattamente a quale episodio storico si riferisce sappiamo che si tratta evidentemente di una presa in giro sulla quale nei versetti successivi si imposterà un discorso nuovo Kaufman ipotizza che possa essere qui un topos letterario cioè che possa essere qui un elemento ricorrente nella letteratura antica quello della presa in giro per motivi storico politici fatto sta che si adombra qui un episodio particolare cerchiamo di capire di che cosa si tratta il testo dice nella traduzione letterale tutti quelli che fanno parte del tuo patto tutti quelli che erano legati da patto con te ti hanno accompagnato fino al confine che cosa ci immaginiamo ci immaginiamo una situazione in cui Edom sta partecipando ad una guerra ha degli alleati e questi alleati lo accompagnano fino al confine cioè fino al luogo dello scontro con i nemici e a questo punto che cosa succede ti hanno abbandonato ti hanno tradito ti hanno ingannato gli uomini della tua pace letteralmente cioè i tuoi alleati ti hanno sedotto e ti hanno vinto questo è un testo che ha delle parole che devono essere a sua volta commentate l'idea generale è che gli alleati accompagnano Edom combattente fino al confine nel punto geografico cioè in cui comincia lo scontro con i suoi nemici e invece di aiutarlo fino in fondo lo abbandonano miseramente alla sua sorte perché questo avviene non lo sappiamo non conosciamo l'episodio ma vedremo che il profeta Ovadia collega questo motivo a un comportamento che Edom nella storia passata aveva attuato anche nei confronti dei suoi fratelli cioè del popolo ebraico consegnarli al nemico il tradimento è certamente una delle cose peggiori che ci possano essere e qui Edom viene rimpoverato per questo e gli viene dato un contrapasso in sostanza cioè come tu ti sei comportato con Yaakov così i tuoi alleati si comportano con te ma l'espressione più interessante è l'ultima parte di quel versetto lachmecha yassimu mazor tahtecha en tevunabo testo ebraico lachmecha che qui è tradotto i tuoi commensali significa letteralmente il tuo pane allechem shelcha qui dice hanno portato il malanno la parola mazor che è tradotta malanno può avere anche altri significati che adesso vedremo hanno portato il malanno dove tu ti trovavi al posto tuo e c'è un'ultima esclamazione finale del profeta che cosa significa la parola lachmecha il tuo pane può essere interpretata in almeno tre modi diversi il primo è quello che ci offre la traduzione qui i tuoi commensali coloro che partecipano del tuo pane di quale pasto comune si tratta possiamo ben immaginare che quando si stipulava un'alleanza la cosa veniva festeggiata con un gran banchetto e quindi lachmecha intende qui gli alleati nel senso più intimo del termine quelli con cui non solo ti proponi di condividere le sorti della guerra ma quelli con i quali festeggi quelli che partecipano alla tua vita di relazione a tutti gli effetti quelli che hanno mangiato con te che hanno goduto del tuo pane e a questo punto ti hanno tradito cosa terribile effettivamente ma la parola lachmecha può anche avere un altro significato può anche avere un altro significato lachmecha da questa radice deriva anche la parola milchama stessa che significa guerra c'è chi dice che la guerra nasce come guerra per il pane e da qui la affinità dei due termini a questo punto lachmecha significa semplicemente i tuoi combattenti i tuoi combattenti ti hanno tradito ma c'è una terza possibile interpretazione di questo lachmecha nella parola lachmecha nel capitolo 13 o 14 del libro dei numeri del libro di Bemidbar l'immagine del pane è indicata è usata per indicare qualche cosa di facile conquista chi lachmenu hem dice un versetto lì non dobbiamo temere certi popoli perché sono il nostro pane cosa vuol dire sono il nostro pane sono a portata della nostra conquista a questo punto il termine usato qui potrebbe avere secondo questo significato una sfumatura ancora più forte non sono semplicemente gli alleati ma sono le persone che noi consideravamo più deboli di noi ebbene proprio da questi ci è arrivato il tradimento si è manifestata in realtà tutta la loro forza anche nei nostri confronti nel consegnarci ai nostri nemici quelli che credevamo essere il nostro pane quelli che credevamo non costituire un problema per noi sono diventati invece la fonte del nostro principale problema l'immagine a questo punto è estremamente forte questa è l'interpretazione di Cimson Raphael Hirsch sulla quale torneremo ma c'è un altro termine problematico in queste parole in questo versetto ed è il termine Masor che qui è tradotto malanno Yassimu Masor Tartecha nella traduzione qui i tuoi commensali hanno portato il malanno dove tu ti trovavi la parola Masor ha anche questa significati diversi è una parola rara ma sulla base dei pochi confronti che noi abbiamo in altri versetti del Tanakh c'è chi la traduce rete hanno portato la rete dove tu ti trovavi cioè ti hanno imprigionato in sostanza oppure esiste nella Mishnana, nel Trattato Kulin dove si parla di questioni alimentari di regole alimentari l'espressione Beitzim Musarot per dire uova guaste e quindi Masor avrebbe a questo punto il significato di guasto ci sono dei versetti anche nel Tanakh dove la parola guasto oppure malanno è senz'altro giustificata ma c'è un'altra interpretazione ancora ed è quella della Brabanelli il quale confronta questo termine con un altro termine che ha il significato esattamente contrario questo capita c'è nel primo capitolo di Eshayao l'espressione lo zoru velohu bashu le ferite non sono state lenite e non sono state fasciate Masor secondo questa interpretazione non significa malanno ma significa il suo opposto significa guarigione e quindi e quindi conterrebbe evidentemente un'ironia qui un'ironia tremenda Yassimu Masor Takhtekha significherebbe hanno portato la guarigione fra virgolette dove tu ti trovavi quella che tu pensavi essere la fonte della tua guarigione la soluzione dei tuoi problemi si è trasformata nella tua rovina l'ironia è forte l'ironia è veramente terribile di questa espressione e l'uso di questo termine così raro e difficile da decifrare con esattezza aumenta naturalmente l'aspettativa da parte di noi che siamo i lettori proprio perché la rosa di possibilità interpretative è grande come abbiamo visto di quale episodio si tratta qui non lo sappiamo abbiamo detto e abbiamo accennato la volta scorsa che di fronte a questo problema i commentatori assumono atteggiamenti diversi Rabbi Avraham Ibn Ezra tende effettivamente per tutto quello che è possibile a identificare qui in Edom la popolazione storica di cui vi ho parlato prima antecedente alla distruzione del primo tempio ce ne siamo già occupati il Radak per sfuggire ai problemi interpretativi di cui abbiamo accennato dice che Obadiah non si occupa del vecchio Edom ma si occupa di Edom nell'interpretazione rabbinica che identifica in Edom Roma e quindi non si parla più del primo tempio ma si parla invece dell'epoca della distruzione del secondo tempio ad opera dei romani arriva Abrabanel che fa la sintesi tra le due posizioni antitetiche e dice che questo testo il nostro testo può essere interpretato su entrambe le chiavi interpretato sia in funzione di Edom all'epoca del primo tempio ma anche in funzione di Roma la distruzione del secondo tempio e la storia romana in genere e a proposito di questi versetti che stiamo studiando Abrabanel dice una cosa molto interessante dice che il riferimento di tutto questo brano è alle invasioni barbariche così dice le invasioni barbariche si parla di Gannavim nei versetti precedenti che abbiamo studiato la scorsa settimana si parla di ladri e di predoni chi sono questi ladri e questi predoni? non sono altro che i barbari che distruggono Roma e chi sono questi barbari? sono Anshei Beritecha sono Anshei Shelomecha alleati dei romani i romani erano convinti che i barbari fossero pane per i loro denti che fossero facili da conquistare e da sottomettere e per un certo numero di anni o di decenni ci sono anche riusciti a farlo ma successivamente questi stessi barbari Anshei Shelomecha e Anshei Beritecha si rivoltano contro i loro conquistatori sappiamo come vanno e come sono andate effettivamente le cose come sono andate effettivamente le cose dall'interno i barbari hanno accompagnato i romani al confine come dire li hanno soppiantati hanno preso il loro potere questa è la conclusione della Brabanelle e sulla Brabanelle si continua il discorso Shimshon Raphael Hirsch in epoca molto più moderna la Brabanelle è vissuto alla fine del Quattrocento Shimshon Raphael Hirsch è vissuto nel corso dell'Ottocento cosa dice Shimshon Raphael Hirsch? commenta l'espressione En tevunabo egli è sprovvisto di consiglio che cosa significa questa espressione nei termini delle invasioni barbariche significa che i barbari hanno vinto proprio per la loro rozzezza i romani erano convinti della propria superiorità culturale sia pur con i limiti di cui ho parlato la settimana scorsa e erano a un certo punto convinti di ciò i barbari li hanno sopraffatti proprio perché assai meno colti e hanno instaurato un dominio privo di tvunà privo di intelletto privo di intelligenza però dice Shimshon Raphael Hirsch che cosa hanno portato questi barbari hanno portato Masor Masor significa guarigione Shimshon Raphael Hirsch interpreta questo termine nel senso che se da un lato i barbari erano rozzi dall'altro erano molto più puri vicini alla propria naturalità lontani dalle sofisticazioni dei romani e questo ha consentito loro di vincere questo significa la parola Masor nel senso di guarigione hanno portato qualche cosa di nuovo che ha sostituito l'impero romano corrotto questa è la guerra di Edom secondo queste interpretazioni che stiamo per l'appunto dando da un lato non c'è tvunà non c'è intelletto in questi nuovi dominatori ma dall'altro c'è guarigione c'è una purezza chiamiamola così ancestrale che guarisce le sofisticazioni e le sovrastrutture dell'impero romano in crisi è un'immagine evidentemente estremamente forte questo versetto prima di passare oltre è oggetto di un'analisi talmudica questa analisi talmudica apparentemente non c'entra niente con l'interpretazione che stiamo dando che è verosimilmente legata a secoli posteriori però intanto vi posso dire che delle invasioni barbariche nel Talmud c'è un eco c'è una Gemara in Megillah del Daf Vav, se ben ricordo che commenta un difficile versetto del libro di Giobbe Io che dice che letteralmente significa non far uscire a compimento le sue macchinazioni la Gemara commenta e dice Zoi Germamia Shel Edom questa è la Germania di Edom che quando escono in guerra distruggono tutto quanto il mondo è un'immagine evidentemente estremamente eloquente di quello che i commentatori successivi come abbiamo visto cercano di farci capire ma il passo del Talmud che volevo brevemente analizzare con voi è un passo differente è contenuto il trattato Sanedrin nel trattato Sanedrin e riporta alcuni insegnamenti di Rabbi El-Azad riporta alcuni insegnamenti di Rabbi El-Azad questi insegnamenti vertono tutti sul concetto di Daat di sapienza, di conoscenza che è qui inteso come sinonimo di Tvunah che è usato nel testo di Ovadiana che qui è tradotto consiglio cosa dice Rabbi El-Azad nella Gemara in Sanedrin? ci dice così Amar Rabbi El-Azad col parnas che manig e tazibur benachat so che umanigam la olamaba qualsiasi uomo pubblico uomo politico diremmo noi amministratore che guida la collettività con ponderazione forse letteralmente con tranquillità in modo in modo sereno li conduce al mondo a venire aggiunge Rabbi El-Azad e dice Amar Rabbi El-Azad GEDOLAH DEA SE NITENA BEN SHTEI OTIYOT grande è la sapienza perché il versetto la nomina fra due nomi di Dio che ne è Amar perché c'è un versetto che dice KI EL DEOT ASHEM poichè Dio di conoscenza è Hashem v'Amar Rabbi El-Azad Rabbi El-Azad dice ancora GEDOL MIKDASH SE NITAN BEN SHTEI OTIYOT anche il Beta Mikdash è cosa grande perché in un altro versetto ancora è a sua volta nominato fra due nomi di Dio è un versetto della Shirat Ayam della Cattica del mare che dice MIKEDASH ASHEM PA ALTA ASHEM MIKEDASH ASHEM CONNELUYA DEHA la parola Mikdash è preceduta e seguita dal nome di Dio De Amar Rabbi El-Azad ko la damshe yeshbode a che ilunivna Betamikdash be Yama Rabbi El-Azad non si limita a fare queste due considerazioni sulla DEA sulla conoscenza e sul Beta Mikdash ma lega insieme i due concetti e dice ogni persona che abbia sapienza è come se il Beta Mikdash fosse stato ricostruito ai suoi tempi sheseni tanbenste otiot ve zeni tanbenste otiot perché sia la sapienza che il Beta Mikdash sono inseriti fra due nomi di Dio come abbiamo visto Ve Amar Rabbi El-Azad Rabbi El-Azad continua nei suoi detti su questo argomento ko la damshe yeshbode a la sof mit asher qualsiasi persona dotata di intelletto alla fine arricchisce Sheneemar e si porta qui un versetto e riprova Uvda'at khadarim imma leu kol hon yakar venayim attraverso la sapienza le stanze si riempiranno di ogni ricchezza cara e piacevole Ve Amar Rabbi El-Azad Rabbi El-Azad dice ancora una frase che richiede qualche spiegazione evidentemente kol adamshe enbode a qui si parla invece di una persona priva di intelligenza assurnera khemalave avere misericordia di lui una frase terribile perché? perché anche su questo c'è un versetto che dice Sheneemar chi lo am binot hu perché non è un popolo intelligente al ken lo yerachamennu ossehu e pertanto il suo creatore non avrà misericordia di lui e colui che lo ha forgiato non ne avrà pietà Ve Amar Rabbi El-Azad Rabbi El-Azad dice kol anoten pittole mishe enbode a yissurin vayin alam chiunque consegna il suo pane ad una persona priva di intelletto alla fine sarà colpito da sofferenze Sheneemar perché è detto Lachmecha e qui cita il nostro versetto il tuo pane per via del tuo pane dice Rashi cioè per il fatto che tu hai dato il tuo pane a qualcuno che era privo di intelligenza Yassimu Mazor Tartecha metteranno il malanno al tuo posto sotto di te perché la persona a cui tu hai dato il pane è priva di consiglio è priva di intelligenza e En Mazor Ella Yissurin e il Talmud dice la parola Mazor che abbiamo analizzato prima significa sofferenza Sheneemar perché c'è un altro versetto che la cita con questo significato e dice Efraim Efraim riconobbe la sua malattia e Yehuda il suo malanno L'amara Bielazar col Adam She'elbode ala Sofgolè Chiunque sia privo di intelligenza alla fine andrà in esilio Sheneemar ultima citazione La chen galah amimiblidat il mio popolo è andato in esilio per mancanza di intelligenza per mancanza di consiglio la domanda è di quale intelligenza stiamo parlando qui secondo il Talmud Cosa significa l'invito a non avere neppure misericordia per chi è privo di consiglio Qui per intelligenza non si intende necessariamente quella che si acquisisce e si coltiva con i libri Verosimilmente qui l'intelligenza è il buon senso molto semplicemente o la capacità di condurre una vita di relazione come si deve Questa è l'intelligenza che ha la capacità di unire gli uomini evidentemente E allora chi non è in grado di esercitare questo tipo di intelligenza evidentemente non merita la nostra attenzione e neppure la nostra misericordia Cosa significa la frase in cui Rabbi Elazar dice che chiunque dia il pane ad una persona così il proprio pane ad una persona così alla fine verrà colpito lui stesso da sofferenze C'è una bella spiegazione del Ben Ishkai di Bagdad nel suo commento Ben Yeroyada a questo passo del Talmud che dice stiamo attenti a dare il nostro pane ad una persona che lo sa apprezzare o per lo meno che non lo disprezzi perché se noi lo diamo ad uno consegniamo ad una persona che lo disprezza rischiamo non solo di privarci della sua gratitudine e questo sarebbe ancora poco ma potrebbe persino utilizzarlo contro di noi e questo ci creerebbe certamente delle sofferenze non voglio fare qui nessun riferimento alla storia se non richiamare il tema delle invasioni barbariche di cui ho parlato prima come diceva il Manzoni queste cose succedevano solo nel secolo XVII oggi queste cose non succedono più per così dire le invasioni barbariche sono state evidentemente alimentate da questo stesso spirito lo spirito di chi evidentemente privo di intelletto ha dominato si è inserito sulla popolazione tra virgolette civile che aveva pensato di conquistarlo e assoggettarlo in precedenza e poi ha avuto il sopravvento e questo è stato certamente causa di sofferenze per tutti gli altri questo è vero similmente l'insegnamento sul quale dobbiamo stare molto attenti noi oggi senza naturalmente fare nessun riferimento ognuno troverà i riferimenti che riterrà opportuno ma è uno spaccato di umanità e forse anche di disumanità per certi aspetti che merita qualche istante di riflessione certamente e a questo punto se siete d'accordo io proseguirei con il nostro testo che cosa dice il versetto successivo il versetto 8 in italiano in quel giorno detto del Signore distruggerò i saggi da Edom e l'intelligenza dal monte di Esau mantenendo la stessa interpretazione delle invasioni barbariche distruggerò i saggi da Edom significa che l'imposizione di una cultura più rozza all'occidente ha determinato la fine della cultura di Edom della cultura di Roma anche loro sono stati privati dell'intelligenza verso 9 e i tuoi prodi o Teman avranno paura così che tutti saranno distrutti dal monte di Esau in conseguenza della strage chi è qui Teman? Teman oggi lo si identifica con lo Yemen in realtà non si tratta dello Yemen anche se lo Yemen ci sta dando in questo periodo dei problemi a sua volta chi lo sa? Teman è una città di Edom o secondo un'altra interpretazione andate a guardare alla fine della parasha di Vaishlach e scoprirete che Teman è il nipote di Esau Esau ha avuto un figlio che si chiamava Elifaz e uno dei figli di Elifaz è Teman i tuoi prodi avranno paura oppure secondo un'altra interpretazione i tuoi prodi saranno annichiliti saranno distrutti e qui comincia la rimembranza dei cattivi rapporti che ci sono stati fra Esau e Yaakov sono temi che abbiamo già affrontato altre volte evidentemente e che si concentrano in due momenti storici essenziali il primo è la distruzione del primo Bet Amikdash ad opera dei babilonesi è stata l'epoca in cui gli ebrei assediati dai babilonesi hanno contato sull'aiuto dei fratelli Idumei figli di Esau e questi li hanno traditi li hanno traditi esattamente nello stesso modo che abbiamo visto descritto prima li hanno consegnati ai babilonesi in cui maturava la disgrazia invece di assisterli li hanno trattati male e i versi successivi ci descrivono nei dettagli come questo è avvenuto ma c'è anche possibile la seconda interpretazione quella aggiornata quella, chiamiamola così, escatologica che identifica in questi atti di violenza quello che è accaduto non alla distruzione del primo Tempio bensì del secondo e chi ha distrutto il secondo Tempio? il primo Tempio è stato distrutto dai babilonesi il secondo Tempio è stato distrutto dai romani cioè dagli Idumei stessi perché Roma e Edom nella nostra visione delle cose coincidono insomma il rimprovero quale sarebbe secondo la Bravanel che collega sempre i due momenti storici gli Idumei la prima volta si sono limitati a fare da assistenti alla poltona la seconda volta sono stati loro i protagonisti della nostra distruzione e il secondo esilio è stato addirittura molto peggio del primo come sappiamo ma vediamo i versetti che cosa ci dicono verso 10 mechamas achicha Yaakov techasecha busha venich vatta le olam tu sarai coperto di onta per il male che hai fatto a tuo fratello Yaakov e sarai distrutto per sempre la parola busha osservano i commentatori in ebraico moderno significa onta significa vergogna ma in ebraico classico in ebraico biblico ha un significato forse un pochino diverso significa delusione per il fatto di non essere riusciti a portare a termine il proprio progetto così ricorre spesso con questo senso però direi che i due significati si completano a vicenda tutto sommato e a partire dal verso 11 viene descritto l'atteggiamento di Edom in maniera particolareggiata cosa ha fatto di male Edom nei confronti di Yaakov che sia il primo tempio o che sia il secondo parliamo del primo o se è più facile il testo dice in ebraico Be'yom amodcha minneget tu sei stato indisparte dice il testo tu sei stato a guardare invece di venire in nostro aiuto ti sei messo lì a guardare da spettatore che male c'è? beh, l'abbiamo letto in una delle ultime parashotte nella parasha di Kedoshin Lotta a moda al damre echa lì nel versetto è usato lo stesso verbo che è usato qui non stare inerte di fronte al sangue cioè alla violenza del tuo prossimo e tu sei stato inerte di fronte alla violenza di tuo fratello che è persino peggio naturalmente non può sfuggire questa affinità questa affinità di termini Be'yom shevot zarim chelo quando sei stato indisparte nel giorno in cui stranieri facevano prigioniero il suo esercito la parola chail può significare esercito ma può anche significare ricchezza a seconda che preferiamo le persone o i beni possiamo tradurlo nel giorno in cui gli stranieri facevano prigioniero il suo esercito ma possiamo anche tradurlo nel giorno in cui i prigionieri depredavano i suoi beni Be'nohrim ba'u she'arar qui la discrezione in terza persona riguardo a Iacov naturalmente e quando stranieri giunsero alle sue porte e agli Yerushalaymi a Dugoral che gettarono la sorte sul Gerusalemme per ripartirsi i prigionieri per ripartirsi forse i beni stessi che depredavano insomma nel colmo della nostra shagura sei stato lì a guardare anche tu sei come uno di loro il fatto che almeno in questa fase tu non abbia preso parte attiva alla battaglia contro di noi non ti esime dalle tue responsabilità è già molto grave il tuo atteggiamento chi non aiuta il prossimo in difficoltà è come se aiutasse alla sua come se contribuisse alla sua rovina questo è evidentemente il senso del testo e il verso 12 rincara sempre di più la dose e parla del passato come se fosse un futuro bellissimo lo stile qui ve altere be yom achiha be yom noho letteralmente non non dovrai startene indifferente nel giorno della disgrazia di tuo fratello ma il senso probabilmente è rivolto al passato e un futuro anteriore non avresti dovuto startene indifferente nel giorno della disgrazia di tuo fratello questa formula grammaticale è molto forte parla del passato come se fosse un futuro da rivedere da correggere in qualche modo o da condannare se vogliamo non avresti dovuto startene a guardare nel giorno be yom noho cosa vuol dire be yom noho anche qui ci sono due interpretazioni questa radice in un versetto del libro di Shemuel ha il significato di consegnare nel giorno della sua consegna cioè nel giorno in cui è stato consegnato ai nemici tutte ne sei stato in disparte a guardare ma nohro c'entra anche con nohri che significa straniero e straneo nel giorno della sua straniazione nel giorno in cui è stato costretto ad abbandonare se stesso questo probabilmente è il significato più forte non avresti dovuto rallegrarti per i figli di Yehuda nel giorno in cui essi stavano per essere perduti non avresti dovuto parlare con Altevija nel giorno della sua sventura ecco che qui comincia a emergere un comportamento ancora più grave gli Dumei non sono semplicemente stati a guardare in silenzio ma hanno espresso giudizi hanno espresso di leggi nei confronti del popolo ebraico nei confronti dei loro fratelli e questo rincara la dose naturalmente sempre di più Altevò beshar ammi beyo medam non avresti dovuto entrare nella porta del mio popolo nel giorno della sua rovina uniti con i nemici di Israele se si tratta del primo tempio ma se si tratta del secondo tempio qui gli Dumei, cioè Roma vengono accusati di essere loro stessi entrati a Yerushalayim e di aver portato alla distruzione si ripete il concetto non avresti dovuto assistere anche tu indifferente al suo male nel giorno della sventura ve'al ta'amod ala perek cosa significa questa frase? qui traduce non avresti dovuto stare nel crocicchio perek è il bibio perek oggi significa capitolo in realtà la parola perek significa divisione è una radice che implica l'idea di spezzare di dividere smontare fare a pezzi le farek significa anche in ebraico moderno smontare i commentatori dicono che si tratta per l'appunto del crocicchio del bibio dove le strade si dividono si biforcano dove ci sono più possibilità di movimento ma dove c'è anche la possibilità di controllare meglio il traffico e cosa facevano questi signori davanti al bibio? ovviamente ve'al ta'amod ala perek le achrit et pelitav per distruggere i suoi fuggiaschi insomma Edom non si è limitato a stare a guardare trasgredendo comunque al divieto di stare inerte di fronte al sangue di suo fratello non si è limitato a prendere in giro e a parlare male di noi in termini alteri, in termini di supervia ma è passato dal pensiero alla parola e dalla parola all'azione e ha fatto con noi quello di cui i versetti con i quali abbiamo cominciato oggi lo descrivono lo descrivono come consegnato ai nemici dai suoi alleati per il fatto come contrapasso di aver consegnato i suoi alleati ai nostri nemici cioè Iacov, noi stessi hai consegnato ai nemici, ai babilonesi all'epoca del primo tempio gli ebrei fuggiaschi che fuggivano da Yerushalayim assediata e distrutta sei passato all'azione alla peggiore delle azioni questo è il senso del discorso e altas ger sridav e non avresti dovuto consegnare gli avanzi di lui nel giorno della sventura credo che oggi ne abbiamo visto abbastanza di cose per concludere qui oggi magari facciamo una lezione un pochino più breve e concentrarci particolarmente sul messaggio che è contenuto in questi versetti un messaggio che ci riporta all'importanza della fratellazza nel saper interpretare la parola divina come un invito all'unione interna all'unione fra fratelli, all'unione fra i cugini per quello che è possibile naturalmente dobbiamo ritrovare questo valore nella compagine del mondo ebraico in Israele, nelle nostre comunità Savasandir quanto il tradimento fra fratelli possa essere pernicioso per tutti questo credo che sia il messaggio che Obadiah ci vuole portare con questi versetti ci vuole portare a considerare l'importanza di questi temi un tema, lo accenno soltanto, che si ritrova nella parasha di questa settimana alla fine della parasha di Behar Sinai in cui si parla dell'importanza di riscattare i prigionieri di riscattare quei nostri fratelli che si trovano alla mercè di persone e di altri popoli è un tema spinoso è un tema di grandissima attualità sulla quale siamo chiamati a riflettere e possibilmente anche ad agire per il bene nostro e per il bene di tutta quanta la casa di Israele vi ringrazio molto per la vostra attenzione e vi do appuntamento senz'altro per la prossima settimana in cui porteremo avanti ulteriormente il nostro studio Shabbat shalom a tutti Shabbat shalom Grazie a tutti